E dal Festival del Classico noi qui nel Posto delle Parole anticipiamo alcuni incontri come abbiamo già fatto, abbiamo già avuto modo di conversare insieme con Laura Pepe, con il curatore di questo festival Ugo Cardinali e avremo altri ospiti e intanto abbiamo avuto Ivano Dionigi giusto ieri che ci ha parlato del classico ovviamente perché il Festival del Classico è nella parola classico. Cerchiamo di vedere quanto la parola classico attraversa i nostri giorni. Intanto andiamo ad anticipare la notte di sabato 28 novembre dalle 22 e 30, la notte degli eroi ed ecco qui uno degli ospiti di quella notte. Melania Mazzucco buonasera e benvenuta, benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontarci di che cosa lei racconterà per l'appunto in questa notte di sabato 28 per il Festival del Classico, il Festival del Ricordo organizzato dalla Fondazione del Circolo dei Lettori. Il suo incontro sarà titolato, Melania Mazzucco, Le donne e la guerra, la guerra delle donne, che non è semplicemente un bel gioco di parole, ma qui in gioco ci sono parole che durano da tanti anni, da millenni e che attraversano la vita delle donne e spesse volte lo sguardo maschile che non è corrispondente. Quali viaggi ci farà fare sabato sera Melania Mazzucco? Io ho cominciato il mio viaggio con un luogo lontanissimo, nella Repubblica di Tuva, in Siberia, dove nel 1988 due archeologi, uno si chiamava Vladimir Semyonov e l'altra Marina Kirunovskaya, hanno ritrovato la tomba di un guerriero scita. C'era una mummia che apparteneva a un adolescente di 13 anni morto 2600 anni fa, era sepolto con un'ascia, un arco e le frecce, e però gli esami paleogenetici hanno rivelato che invece si trattava di una donna. Ed era la prima volta che l'archeologia confermava la realtà del mito classico delle Amazzoni, insomma un mito che ha incendiato la fantasia dell'antichità e poi si è riverberato della nostra cultura per millenni. Quindi ho cominciato il viaggio da lì, dalla conferma che queste eroine, sempre sconfitte e sempre straniere, sono in realtà esistite e si sono rispecchiate e hanno suscitato un'infinità di congetture, di sogni e di paure anche nell'immaginario occidentale. Quindi ho pensato di riraccontare alcune delle storie delle Amazzoni, che però raccontando anche come poi le Amazzoni sono entrate nel nostro immaginario più recente, perché sono finite nel nostro poema epico per eccellenza, la nostra Eneide, attraverso l'Eneide sono arrivate ai poemi cavallereschi del nostro rinascimento, in realtà poi incontrandosi anche con la storia, quindi non è solo la leggenda, è solo il mito, ma anche alcune figure di donne che effettivamente la guerra l'hanno fatta. E l'hanno fatta non soltanto come si può immaginare, come vittime, come bottino di guerra, come schiave, come vedove, come madri orbate dei figli, però anche donne che hanno preso l'arco e le frecce, appunto come questa misteriosa guerriera scita e hanno cercato di difendere o il loro paese o la loro città o a volte se stesse. Le Amazzoni, questo popolo discendente dal dio Ares e poi anche da una ninfa di cui ahimè non ricordo il nome, ma non importa, sono protagoniste straordinarie della guerra. Ma perché, perché da una parte, Melania Mazzucco, vengono cantate ma nello stesso tempo vengono anche volutamente messe in un angolo e forse anche dimenticate le Amazzoni? Allora, in quasi, ognuno di noi ha girato, visto nei musei, bassorilievi, statue, sculture che ornavano quasi tutti i templi greci e rappresentavano sempre la scena dell'Amazonomachia, quindi l'uccisione delle Amazzoni. Quindi le Amazzoni esistevano, terrorizzavano, erano delle grandi guerriere, perfino Achille riconosce il valore di Pentesilea, però dovevano essere sconfitte, anzi dalla loro sconfitta si fonda la civiltà greca che noi amiamo. Sono alcuni dei nemici storici, insomma, visti da questo punto di vista, dal punto di vista greco. Sono sempre straniere anche e quindi respinte due volte, come se non si sapesse bene come maneggiare queste figure. Mi ha interessato soprattutto questo, la necessità che esse fossero straniere, per poi rendersi conto che in realtà invece non era così e che esse erano anche fra noi. Le Amazzoni possono essere considerati, visto che stiamo parlando della Notte degli Eroi, del Festival del Classico, notte di sabato 28 novembre, a partire dalla 22.30, curata e condotta da Neri Marco Re, ma le Amazzoni possono essere considerate delle eroine, visto che parliamo della Notte degli Eroi? Sicuramente sì, anche perché appunto io ho cercato di incrociare poi il dato mitico, insomma, con quello di figure anche reali e la storia ce ne ha consegnate in realtà di donne che nel momento in cui sono state chiamate hanno agito, hanno preso parte all'azione, alla difesa. Penso, lo so, uno dice il nome Artemisia, oggi noi lo associamo immediatamente alla grande pittrice, alla nostra Gentileschi, però in realtà Artemisia porta il nome di una donna che era Artemisia di Alicarnasso, che nel V secolo aveva guidato i persiani durante la Seconda Guerra Persiana e era stata lodata da Cersei per questo. Quindi non sono soltanto figure inventate o respinte, insomma, nella Notte dei Tempi, nelle leggende. Penso anche a Telesilla, la poetessa di Argo, che aveva difeso la sua città dagli spartani. C'era un monumento, viene descritto, insomma, nelle fonti antiche e viene raccontato che la raffigurava nell'atto di lasciare i suoi libri, qualcosa quindi che noi possiamo sentire molto vicino, per cingere l'elmo e quindi far parte, insomma, della squadra di coloro che cercano di salvare la loro città. Quindi non sono soltanto le strane e le straniere, ecco, sulle quali si può ricamare, si può sognare, perché tanto saranno sconfitte come Budicca, la regina degli Iceni, che aveva guidato la rivolta antiromana, o la stupenda regina siriaca Zenobia, che aveva difeso il suo regno di Palmira per poi finire a Roma nel trionfo di Aureliano con le catene d'oro. Ci sono state anche da questa parte della storia. Penso anche a una figura pochissimo conosciuta come la pittrice onorata Rodiani, che diventò capitano di ventura e soltanto nel momento in cui fu ferita a morte, rivelò la sua identità di ragazza. Melania Mazzucco, qui nel posto delle parole spesse volte amiamo, come ci piace dire, inciampare nelle parole stesse per vederle un pochino meglio. E inciampiamo volutamente nella parola amazzone, perché amazzone ci porta nel suo significato a comprendere proprio il loro senso di essere guerriere, dal punto di vista anche molto pratico. Sì, per quello che sappiamo che ci racconta Ippocrate, subivano una mutilazione, ed è a questa cosa che si riferisce il termine greco. Sbruciavano la mammella sinistra per poter meglio cingere l'arco, quindi per poter puntare e poi scagliare la freccia con maggiore precisione. E quindi è come una mutilazione fisica che cerca di spostare la natura della donna, o comunque mette in discussione la natura della donna. E c'è un'altra cosa che racconta Ippocrate che trovavo sempre molto affascinante, che le amazzone dovevano restare vergini, ma non tutta la vita, fino all'uccisione di tre nemici. Era come se l'assassinio fosse un'iniziazione, no? Soltanto dopo si poteva essere interamente donne. E questo mi ha sempre molto incuriosito. Sicuramente incuriosito e anche con una valutazione della figura femminile molto particolare. Tra l'altro le amazzone si univano con stranieri solamente per perpetuare la loro stirpe, no? E quindi... Sono le prime che hanno pensato che gli uomini potessero servire alla riproduzione, ma che non ce ne fosse bisogno poi di accollarseli per tutta la vita. Qualcosa che sembra anche abbastanza contemporaneo oggi, no? Paradossalmente, quindi... Paradossalmente, però, attraverso il nostro senso della contemporaneità. Ma rimaniamo ancora, Melania Mazzucco, in quel tempo della mitologia, perché non possiamo parlare dell'amazzone senza citare un personaggio straordinario, il mito di Teseo. Ecco, Teseo ebbe a che fare qualche cosa con le amazzone, però cambiò idea. Ebbè, perché le amazzone, appunto, sono o amate troppo tardi, come Achille, che soltanto dopo aver ucciso Pentesilea si rende conto della sua bellezza e del suo valore, vorrebbe possederla, ma ormai è tardi, no? E l'ha persa, oppure perché poi convivere con un amazzone è impossibile e quindi la si abbandona e ci si sbarazza di lei, anche se poi questo genera una maledizione sull'erede, no? Sul figlio Ippolito, che poi è il figlio dell'amazzone, appunto, e della madre eredita, in realtà, la natura selvatica, indocile, solitaria, che alla fine pagherà con la vita per aver rifiutato poi l'amore della matrigna. Però le amazzone non sono solamente collocate nel tempo antico, nel tempo della mitologia greca, non solo, perché le amazzone, venendo sempre più vicino a noi nel tempo, hanno una ragione di esistere, ad esempio nel Medioevo. Sì, perché appunto le figure delle donne, spesso travestite, no? Perché poi entra una specie di slittamento, no? L'amazzone è una donna, anche se è mutilata, probabilmente, secondo almeno quello che ci racconta appunto Ippocrate, però resta donna, una super donna, una super eroina che non ha bisogno neanche dell'eroe. Dal Medioevo in poi entra in scena una figura diversa, cioè è una donna che si traveste da uomo per poter essere eroina e guerriera. E questo comincia già in tutti i poemi cavallereschi, ci sono queste figure travestite, che peraltro corrispondevano anche alla realtà, perché come ho raccontato prima, la pittrice Rodiani effettivamente combatteva travestita, cioè nessuno sapeva che fosse effettivamente una donna. È come un tentativo quasi di rendere un pochino più rassicurante questa figura. Sì, gli altri non sanno la sua vera natura, lei la deve nascondere. Possiamo definire Giovanna d'Arco, che spesse volte è già stata definita in maniera automatica amazzone? L'amazzone di Dio è stata chiamata, infatti. Una delle più difficili da decifrare. Appunto, una figura indecifrabile che i contemporanei riuscirono a leggere soltanto in chiave mitologica, altrimenti tutta l'avventura folle della pulsella sarebbe rimasta per loro incomprensibile. E la chiamarono l'amazzone di Dio proprio per collocarla, in qualche modo, per trovargli un posto nella storia, perché sennò non sapevano come maneggiare. Era incredibile quello che ha fatto questa ragazza. E veniamo alla storia di oggi, vicino a noi. Oggi chi sono le amazzoni, ammesso che possano ancora esistere Melania Mazzucco? Credo che la guerra in Siria ci abbia dato una grande lezione in questo senso, perché ci sono state le brigate delle donne kurde che si sono arruolate volontarie per difendere le loro città, che hanno pagato tra l'altro un prezzo altissimo di sangue, perché molte di loro sono state uccise, ma hanno gridato più forte nel grande silenzio forse dell'Occidente, che le ha guardate con ammirazione, però non ha mosso un dito per difenderle. Effettivamente hanno gridato qual è il valore della libertà e che anche una donna può, anzi deve in prima persona difendere. Credo che sicuramente quello che è accaduto sul fronte del nord della Siria sia stato l'esempio più forte, anche più perturbante, proprio perché in effetti è accaduto sotto i nostri occhi. Sarà accaduto anche sotto i nostri occhi, Melania Mazzucco, ma è vero, siamo disattenti, abbiamo ognuno le sue priorità, però quanto l'Occidente non ha raccontato, oggi che siamo nell'epoca della narrazione, dello storytelling continuo, quanto l'Occidente non ha raccontato la storia di queste donne? No, appunto, ogni tanto quando è morta qualcuna, forse l'ha celebrata da morta, con ammirazione, a volte anche con molto rispetto, ricordo dei documentari, ricordo che si è parlato di loro, però spesso da morte, forse è più semplice così. E certo, è più semplice così perché sicuramente impegna molto meno, al di là della notizia che sicuramente è da commentare. Melania Mazzucco, ospite al Festival del Classico organizzato dal Circolo dei Lettori di Turino, sabato 28 novembre, la Notte degli Eroi, condotta da Neri Marco Re, col partner Lavazza Group, con luci che rischiarano il buio e le luci in questa maratona di voci per viaggiare in penombra fra le storie del mondo antico e le storie di oggi. Le storie che rischiareranno la notte saranno quelle a cura di Melania Mazzucco, Le donne e la guerra, la guerra delle donne, ma prima di salutarci Melania Mazzucco, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Dunque, in questo momento sto rileggendo un romanzo di Alba de Sespedes che si chiama Dalla parte di lei, a proposito di Amazzoni, è la storia di un... Non so se si dice uxoricidio, perché in realtà si dice uxoricidio quando un marito uccide la moglie, non so se esiste un termine alla rovescia, forse è interessante riflettere anche su questo, è la storia di un delitto di una donna che uccide, ed è una arringa della narratrice in difesa di questa donna colpevole e di tutte le donne oppresse e annientate cresciute negli anni 30 e negli anni 40. Il ritratto della società che esce fuori da questo romanzo è terribilmente tetro e squallido e devo dire che riletto oggi a distanza di tantissimo tempo fa molto soffrire, perché riconosciamo in queste vite trascorse nelle cucine, nella negazione degli studi, della libertà, della sessualità, delle aspirazioni che oggi appaiono naturali e legittime, forse riconosciamo la vita segreta delle nostre nonne, e questo oggi mi turva moltissimo. E pensare che questo libro di Algo de Sespedes è stato pubblicato credo negli ultimi anni 40, 49 assolutamente, quindi era un libro che affrontava un tema che a quel tempo, ancor più scritto da una donna, mica da poco. No, tra l'altro il grande dispiacere è che lei aveva colto perfettamente lo spirito del tempo in cui questo tema serpeggiava anche a livello politico, perché c'era stato un grande dibattito nell'immediato dopoguerra per il voto delle donne, per esempio, che poi fu dato nel 1946, quindi effettivamente si era sollevata la grande questione non solo della rappresentanza delle donne, ma proprio dei loro diritti. E questa è stata un po' un'occasione che invece il nostro paese perse, perché questo dibattito si spense e si sarebbe dovuto attendere molto ancora fino agli anni 70, fino al femminismo, perché tornasse di attualità. Quindi vedo il libro anche come una grande occasione perduta, perché lei aveva già con grandissima lucidità messo a fuoco alcune delle questioni che poi sarebbero state riprese 30 anni dopo. Melania Mazzucco, come sta Plautilla Bricci? Beh, Plautilla Bricci sta molto bene, sta per festeggiare un anno, un anno di vita, un anno felice per lei, che è stata, a proposito di eroine, è stata premiata come l'eroina dell'anno dalle elettrici del settimanale Io Donna. Penso che sia stata una bella festa per lei, perché l'idea che tante donne di oggi, tante elettrici di oggi, si siano riconosciute in una figura come la sua, che ha fatto a suo modo una rivoluzione, però silenziosa e per nulla eclatante in apparenza, ha vissuto una vita abbastanza segreta e proprio perché non ha mai sfasciato niente, ma ha cercato di ucire, è riuscita poi a realizzare qualcosa che nessuna delle altre donne del suo tempo è riuscita a fare, lei diventò pittrice, ma diventò soprattutto architettrice, quindi riuscì a costruire, a mettere pietra su pietra una casa, una villa, una cappella in una chiesa di Roma, in un'epoca nella quale le donne nelle chiese ci andavano solo a pregare, solo in compagnia. Senza voler mischiare tutto quanto, ma in qualche modo Plautilla è anche un po' un amazzone? Si può essere appunto, questo è il motivo per cui ho scritto un romanzo come l'architettrice adesso, è proprio questo, che non c'è bisogno di andare in guerra a volte, per fare la guerra, la si può fare anche imparando a vivere, imparando a vivere con gli uomini, alleandosi con loro, cercandosi i compagni di strada, nelle persone che hanno fiducia nel loro valore, nel loro talento, che non lo fanno per degnazione, con sufficienza, ma semplicemente riconoscono le loro qualità e danno loro le opportunità di valorizzarle. La storia di Plautilla mi è piaciuta anche per questo, perché Plautilla è una donna sola, fu condannata alla solitudine nel senso di non avere un marito, di non potersi sposare, di non avere figli. Ma non è stata affatto invece una donna solitaria e proprio grazie a suo padre, alleandosi con suo padre che le ha dato gli strumenti per diventare un artista e poi con l'abate Ilpidio Benedetti che è stato il suo committente, il suo compagno di tutta la vita, sono riusciti insieme appunto a fare qualcosa di eccezionale. Le sue battaglie lei ne ha vinte, forse la guerra era la persa, ma ha vinto tante battaglie e oggi ha lasciato un esempio nel quale penso molte si possano riconoscere. D'altra parte dobbiamo riconoscere una cosa che è una storia di una donna che è vissuta nel 600, non ieri neppure dieci anni fa e quindi le cose che ha fatto Plautilla sicuramente sono cose straordinarie. È la prima architettrice della storia moderna. Grazie, grazie davvero Melania Mazzucco, buona serata. Grazie, grazie a lei, arrivederci, grazie a tutti.